Cosa fare in caso di terremoti è importante per limitare i danni. Per questo l'Associazione di Volontariato Potenza Solidale, oggi in piazza Mario Pagano, ha allestito un gazebo ed una mostra per sensibilizzare sull'argomento i cittadini del capoluogo di regione, che come noto si trova in una zona ad alto rischio sismico. L'iniziativa in programma oggi e domani rientra nel progetto Io non rischio. Prima di tutto non usare gli ascensori durante la scossa e dopo la scossa. Porsi sotto un'architrave o un punto forte della casa individuato prima, lontano da oggetti posti in alto che per effetto della scossa potrebbero cadere, che comunque sarebbe opportuno non tenere proprio in alto su pennettini sui mobili o attaccarli con un velcro. Evitare di fuggire di casa a piedi nudi. In caso di pericolo non è importante solo sapere in teoria cosa fare, ma anche esercitarsi a mettere in pratica quanto appreso. È indispensabile che le associazioni di volontariato, le istituzioni, tutti gli enti preposti per la protezione civile, provvedano periodicamente a fare attività di esercitazione. Perché se noi per prime associazioni di volontariato che interveniamo in seconda, in terza o anche in prima battuta non siamo a conoscenza dei piani previsti e dei modi di muoverci, è chiaro che è difficilissimo riuscire a portare in salvo o a limitare i danni in casa. All'iniziativa aderito anche il Comune di Potenza ed in occasione della due giorni di sensibilizzazione ai cittadini è data anche la possibilità di conoscere il piano di emergenza predisposto dall'amministrazione comunale. Noi come Comune abbiamo tenuto sempre l'attenzione massima e quindi devo ringraziare gli uffici, teniamo il nostro piano di protezione civile sempre aggiornato, quindi qui lo possiamo evidenziare nella carta proprio perché ci teniamo, è uno dei comuni che su questo ha investito tanto nei piani del mattino dove è stato individuato nel nostro regolamento urbanistico l'area di ammassamento di carattere regionale che è importante.